Siamo negli studi di Aska News per parlare di osteoporosi, dell'importanza della vitamina D e lo facciamo con il professor Salvatore Minisola che è ordinario di medicina interna all'Università La Sapienza di Roma. Professore, innanzitutto benvenuto. Ecco, cos'è la vitamina D e perché la vitamina D è importante per prevenire in qualche maniera l'osteoporosi? Beh, guardi, la vitamina D è una vitamina estremamente importante, senza entrare nei dettagli, ha il ruolo essenziale di favorire l'assorbimento intestinale del calcio per far arrivare calcio ai tessuti scheletri. Quindi la carenza della vitamina D si manifesta con alcune malattie specifiche che sono costituite dal vecchio rachitismo, ormai non presente più in Italia e da un'altra malattia metabolica dello scheletro nel caso in cui la carenza sia molto grave che si chiama osteomalacia. Però gradi lievi di carenza di vitamina D esistono anche nell'ambito dell'osteoporosi. Ecco, ma si può prevenire in qualche maniera anche attraverso l'alimentazione o bisogna semplicemente ricorrere a delle pillole? Guardi, la possibilità di avere un'adeguata quota di vitamina D dipende essenzialmente da due fattori. Primo, vi è la possibilità di introdurla con la dieta, ma la dieta mediterranea non è tale da fornire un'adeguata quantità di vitamina D. La seconda e più fisiologica via di avere un patrimonio vitamino D adeguato è quella di esporsi alla luce solare. Però l'esposizione alla luce solare alle nostre latitudini va bene su per giù da marzo fino a settembre e ottobre, perché negli altri mesi o uno ha fatto una grossissima scorta, o va alle BAMS se se lo può permettere, oppure deve in qualche maniera ricevere una supplementazione necessariamente farmacologica. E questo vale a qualunque età? Questo vale a qualunque età. A chi dovrebbe essere prescritta in particolare la vitamina D e quali sono le regolamentazioni che esistono nel nostro paese per la prescrizione e per il rimborso ovviamente da parte del Servizio Sanitario Nazionale? Guardi, io sono convinto, anzi sono arci convinto, che ci sono quattro categorie di persone a cui la vitamina D va somministrata. Quali? Primo, i bambini, che devono assolutamente calcificare le loro ossa e quindi hanno necessità di averle. Secondo, le gravide, non tanto per la gravidanza in sé per sé, quanto per il fatto che è stato dimostrato in numerosi studi che un'adeguata livello di vitamina D può avere alcuni effetti benefici nel neonato dopo la nascita. Terzo, tutte le persone che assumono farmaci per la cura dell'osteoporosi, adesso senza entrare in nomi generici, bistolsonati, di noso, ma è stato dimostrato che se noi diamo vitamina D l'effetto dei farmaci è migliore. Quarta categoria, tutte le persone in cui è documentato una carenza di vitamina D. La regolamentazione, le norme previste dall'AIFA consentono queste prescrizioni così? Devo dire che l'AIFA recentemente, nel tentativo stimabilissimo di contenere il prezzo dei farmaci in genere della vitamina D, ha dato delle regole per la prescrivibilità del farmaco, della vitamina D intendo. Devo dire che io, diciamo così, non vedo la nota AIFA come una nota molto brillante, essenzialmente perché non risolve alla base alcuni problemi, essenzialmente perché alcuni passaggi creano, secondo me, confusione. Le dico una cosa, bisogna prescrivere il dosaggio della vitamina D qualora si hanno dolori ossei di lunga durata. Adesso mi dica lei, se a una certa età, me compreso, non abbiamo dolori ossei di lunga durata. Purtroppo anche molto giovane. Poi bisogna dare, nel caso accertata, un valore al di sotto di 20 nanogrammi millilitro, la terapia per tre mesi e dopo di che, se i dolori non passano, mi dica lei, se questa è una cosa normale, bisogna rifare il dosaggio della vitamina D. Insomma, io credo che forse, sentendo magari, almeno questo è il mio parere personale, persone che quotidianamente trattano o hanno di fronte questi malati con questo tipo di problema, forse il problema si sarebbe potuto presentare o comunque affrontare in un modo migliore. Io personalmente credo che in Italia ci sia stata una overprescrizione di vitamina D in persone che non ne avevano bisogno, però sono altrettanto convinto che c'è una larga, larghissima fetta di popolazione in cui c'è una carenza o insufficienza di vitamina D che non viene trattata. Io non penso che in questa maniera noi risolviamo il problema e per alcune decisioni che sono state prese, non sono un economista, queste cose si chiamano partita di giro, si sposta la spesa dal settore farmaceutico al settore diagnostico, senza pensare a quelli che sono poi alcuni problemi a livello delle singole unità sanitarie locali. Io penso che sicuramente l'intento era ludevole, però personalmente per me, che non voglio usare frasi retoriche, che ho passato una vita a studiare questi problemi, io credo che la nota poteva sicuramente essere impostata in maniera migliore. Quindi professore, per lei che è un esperto, questa, scusi la banalizzazione, ma questa nota sarebbe in qualche maniera da riscrivere, da rivedere? Beh, io credo che sia da rivedere, sentendo però il parere di coloro che vivono quotidianamente e che magari hanno una caratura scientifica in questo ambito.